e che si debba intervenire di fronte a questa condizione in altro modo, anche solo volendo intervenire relativamente alla sofferenza, quindi al trattamento della sofferenza e alla prevenzione del suicidio, come peraltro il Comitato Nazionale per la Bioetica diceva in un documento però evidentemente più vecchio sul suicidio degli adolescenti, il trattamento di questa condizione va assolutamente considerata in altro modo. Spero di aver fatto un po' di chiarezza in una questione davvero mi rendo conto complicata, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla nostra prossima pagina di diario. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org